Abbiamo fatto un ottimo sviluppo perché siamo riusciti a fare delle sessioni anche molto lunghe quello che ha meravigliato della macchina è stata la sua robustezza da subito perché siamo riusciti a fare tanti chilometri soprattutto anche su sterrato, su terra dura con diversi dossi e terreni accidentati che ci hanno fatto capire che la macchina è nata subito bene abbiamo analizzato sia la robustezza dei supporti motori, degli ammortizzatori, un po' anche della scocca e devo dire che è stata veramente una prova dura però non abbiamo avuto particolari problemi questo ha consentito di andare avanti nello sviluppo e nella messa a punto degli ammortizzatori, dell'assetto, del motore anche perché è un motore nuovo, 1200 turbo per cui insomma rappresentava qualche incognita e anche lì siamo andati avanti bene, siamo riusciti a fare anche, a migliorarla come performance perché da come è uscita chiaramente c'è un assetto standard, normale e poi di lì facciamo tutte le varie variazioni cambiamo spesso strada proprio per vedere come si comporta su tutti i terreni sia veloce, lento, come dicevo terreno brutto, accidentato, sui dossi e diciamo gli ammortizzatori sono andati bene sia come durata che come performance abbiamo trovato subito un buon bilancio anche nei salti perché la macchina è un po' più pesa dell'R2 vecchia e chiaramente rappresentava un po' di incognita ma abbiamo visto che si comporta molto bene anche sia nel singolo salto che anche quando ci sono le varie successioni e una macchina a due ruote motrici avendoci il peso davanti per cui un po' sbilanciata era importante che in queste situazioni si comportasse bene anche nelle curve lunghe il passo favorisce un ottimo controllo migliorato rispetto alla vecchia per cui anche quando si riesce a andare magari a 140-150 all'ora sulla terra e andiamo di traverso per fare la curva ancora più veloce ha un controllo che secondo me è veramente buono i freni buoni una frenata progressiva che ti dà la confidenza giusta abbiamo messo a posto sia l'impianto frenante legata all'ammortizzatore per dargli un giusto pitching cioè un abbassamento dell'anteriore che sia graduale che ti trasmetta la sensazione del grip non solo su asfalto ma anche sulla terra perché comunque sia è importante che sia facile visto che deve essere una macchina anche per i trofeisti o per i giovani non abbiamo solo lavorato sulle performance ma anche sulla facilità di guida la macchina è molto bella ci sono diversi modelli c'è stato un successo molto buono della 208 della precedente e si vuole chiaramente riproporre una macchina migliorata sotto tanti punti di vista anche molto bella esteticamente a mio parere che sia migliorata anche sulla stabilità di guida sul miglioramento di guida sulla facilità si riesce a guidare bene meglio nei terreni accidentati diciamo che è una macchina sembra di categoria superiore rispetto a quella che è quindi a Grazie.